Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti Eccomi finalmente tornata con un nuovo video haul, ebbene sì Oggi ho un pacco da mostrarvi, ho fatto acquisti su Shein Non è una collaborazione questa, ma vi volevo far vedere appunto le cosine che ho acquistato settimana scorsa Insomma, mi sono arrivate praticamente subito dei prodotti che voglio portarmi in viaggio, in vacanza Quindi vi voglio far vedere che cosa ho preso, e poi vi volevo mostrare anche un pacco che mi è arrivato da un'azienda E in questo caso parliamo di tablet, mi è arrivato un nuovo tablet da testare del brand Oukitel E quindi vi voglio far vedere anche questo tablet come funziona Quindi, se siete curiosi di vedere tutto il mio shopping, io vi aspetto dopo la sigla Ok ragazzi, allora eccomi finalmente tornata con un nuovo video haul Sono molto contenta di girarlo perché appunto, come vi ho fatto vedere nell'anteprima Ho un tablet che mi è arrivato dal brand Oukitel da mostrarvi Quindi adesso magari facciamo un piccolissimo unboxing insieme Dove vi faccio vedere come si presenta il tablet e le varie funzioni e tutte le caratteristiche Che se vi fa piacere appunto, potete anche acquistarlo con dello sconto E poi appunto ho preso un po' di cose su Shein che vi voglio mostrare Perché le ho prese per andare in vacanza Quindi ne ho prese, alcune mi piacevano, avevo voglia di queste cose Le avevo nel carrello e quindi le ho volute prendere Sono un po' rossina qua perché oggi sono andata al mare Sembra che non ci sia andata al mare Protezione 30, vabbè Un po' sotto l'ombrellone, un po' che sole c'era, non c'era, non si capiva In ogni caso vedo che qua sto già iniziando a diventare un po' rossina Dopo devo assolutamente mettere il dopo sole Il collo ovviamente bianco come un cadavere Ma detto ciò non importa Allora, parliamo subito di Okitel appunto Che mi ha mandato questo tablet che è il modello OKT3 È un tablet 10 pollici che adesso lo vediamo insieme Quindi io vi lascio subito all'unboxing di questo tablet E noi ci vediamo subito dopo Allora ragazze, ecco qui il nostro tablet Come vi ho detto è del brand Okitel Ed è il modello OKT3 Questo è un tablet da 10 pollici Ecco qua tutte le informazioni Magari se vi volete fare uno screen Insomma, eccolo qua Allora, apriamolo subito e vediamo insieme Che cosa troviamo all'interno della scatola Allora, io ho già tolto la pellicola dal nostro tablet Ok, allora nella scatola ovviamente troviamo il nostro tablet Che ha già la nostra custodia nera Guardate che carina Ok, è già fornito appunto di custodia All'interno troviamo il manuale di istruzioni Questo qui Il nostro cavetto di ricarica con lo spinotto Troviamo questa per andare ad inserire e aprire lo sportellino Dove andare ad inserire la sim E troviamo una penna Eccola qui Questa qua Una penna E dall'altra parte abbiamo questo aggeggino qui Che non ho ben capito a che cosa serva Andiamo avanti con il nostro tablet Ovviamente è un tablet da 10 pollici Io questo qua sinceramente lo vorrei portare per esempio in viaggio al mare Per poter utilizzarlo insomma anche per lavoro Ed è veramente molto molto utile Lo accendiamo Eccolo qua Abbiamo un sistema Android 13 Come vi ho detto il tablet è di 10 pollici E ha la particolarità di avere doppia fotocamera Quindi abbiamo la fotocamera interna E aspettate La fotocamera esterna Eccolo qua Con tra l'altro l'intelligenza artificiale Abbiamo doppia camera 16 megapixel la fotocamera esterna E 8 megapixel la fotocamera interna Avete la possibilità all'interno di inserire delle sim Addirittura un dual sim Quindi potete andare ad inserire due sim Insomma Ok lo abbiamo acceso Questo è il nostro tablet Con all'interno ovviamente già delle applicazioni predefinite Addirittura anche con YouTube Kids già incorporato Avete la possibilità anche di inserire all'interno una scheda di memoria Per una micro SD Quindi da Espandere diciamo la vostra memoria Anche perché comunque Ormai adesso con tutte le foto che facciamo Le mail che riceviamo e tutto Il telefono effettivamente ha bisogno di più spazio E quindi potete andare ad inserire all'interno una micro SD Nell'apposito spazietto ovviamente E potete espanderla fino a 2 Tera Quindi fantastico E' molto scorrevole Quindi comunque io l'ho già collegato al mio Wi-Fi Perché in questo momento non ho Non voglio inserire una scheda di Una scheda sim all'interno Ma lo utilizzerò proprio come tablet classico Quindi da portarmi in giro Da scrivere documenti E eccetera eccetera Quindi da utilizzare Proprio come un vero e proprio tablet Un computerino insomma da avere dietro Io un tablet lo avevo già Devo dirvi la verità L'ho sempre utilizzato per tantissime cose Ha smesso di funzionare un paio di mesi fa Quindi averlo ricevuto Effettivamente è stato una manada al cielo Perché almeno inizierò ad utilizzare finalmente di nuovo il mio tablet La custodia come vi ho detto è questa È fatta così in nero Ok In questo modo E questo è il nostro tablet Eccolo qua di questo colorino grigio Grigio azzurro Molto molto carino Da questo lato abbiamo i nostri microfoni Ok E qui avete anche la possibilità Abbiamo il nostro buchino diciamo Per andare ad inserire il jack delle cuffie Quindi per andare ad inserire proprio i nostri auricolari È molto sottile È abbastanza leggero Quindi non vi dà ingombra assolutamente Anche da portare in giro in borsa eccetera Quindi assolutamente ottimo Ovviamente andrò a scaricare con il Play Store Un po' di cosine che mi serviranno appunto Per poter utilizzare al meglio Colori splendidi Devo dirvi la verità E tra l'altro il costo è assolutamente accessibile Rispetto a tantissimi tablet Che si trovano comunque in commercio Quindi fantastico Non vedo l'ora di scaricare veramente tutti Tutte le applicazioni E utilizzarlo immediatamente Perché sicuramente questo verrà con me In vacanza Quindi comunque porterò il tablet insieme a me Tra l'altro il tablet è veramente molto molto intuitivo Perché comunque è esattamente come il vostro telefono Per chi ha Android Effettivamente è esattamente come avere un telefono Quindi non cambia assolutamente nulla Però io solitamente Utilizzo il tablet magari Per guardare i miei drama Quando sono a letto Quando sono in giro Quando sono Magari per qualche viaggetto Su un treno A autobus che sia Avere il tablet e vedere le cosine con il tablet È sicuramente molto molto utile Insomma Quindi ragazzi appunto Se vi fa piacere Io giù in infobox vi lascio tutti quanti i riferimenti Per l'acquisto di questo tablet E i vari sconti Eventualmente se ce ne fossero Io vi lascio tutto qui sotto in infobox Quindi mi raccomando Andate sempre a curiosare Allora partiamo immediatamente Con gli acquisti di Shein Allora ho preso anche delle scarpe Farei un minuto di applausi alla Ale Complimenti Brava Complimenti Allora La prima cosa che vi mostro E sono molto fiera di questa cosa che ho comprato Ho preso un vestito con i limoni Allora Sti limoni quest'anno Non potete neanche capire Niente Una fissa Allora da quando sono andata l'anno scorso Se vi ricordate sono andata a Sorrento Non avevo un vestito del genere E però se ne vedevano veramente di ogni Mi piacevano tantissimo Non li ho presi Però quest'anno appunto Ho avuto una fissa particolare Particolare proprio per i limoni E quindi ho deciso di prendere questo fantastico abito Ok Fatto così Qui è proprio aperto sulla pancia Eccolo Bretelline Sul retro è fatto a elastico Quindi va assolutamente benissimo Ho preso un XL direi Sì perché avevo paura appunto per il discorso seno Quindi ho deciso di prendere un XL E l'abitino poi scende giù dritto E questa è la fantasia Un po' maioliche Un po' con questi limoni Bellissimi Mi piace un sacco E quindi questo è l'abitino super super carino Con le bretelline Mi piace veramente Veramente tantissimo Con la bronzatura spero sia meglio Quindi nulla Ho preso il vestito Ho preso un altro abito Abito no perché in realtà è una mini tutina L'ho voluta prendere appunto Ad andare al mare o che Non lo so Ho preso questa qui Che adesso vi faccio vedere Questa tutina fatta in questo modo Con il pantaloncino Quindi abbiamo una tutina così Nera Semplice La particolarità è che Questo nodo che noi abbiamo davanti Lo potete andare ad aprire E praticamente sono le vostre due coppe del seno Quindi voi la chiudete in questo modo E vi rimane un pezzettino scoperto di pancia Comunque adesso ve la faccio vedere E ha questa fantasia qui Con i micro poa neri Di questa qua ho preso una 0XL Quindi è della parte curvi È molto carino Ha l'elastico in vita E rimane veramente super super morbido Quindi lo vediamo insieme Vediamo com'è Poi passiamo alla prima Scarpetta Ok La prima scarpetta l'ho riacquistata Perché avevo comprato questa scarpa Già un paio di anni fa Direi Sì Un paio di anni fa Soltanto che era ormai devastata L'ho veramente distrutta E per farla aggiustare Quindi per farle cambiare la suola all'interno È costata veramente uno sproposito Tra l'altro Non so come mai Me l'hanno anche veramente fatta Molto 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 male Quindi lasciamo perdere Fatto sta che si era rotto anche questo gancino qua Ho detto vabbè la ricompro Ed è questa qui Scarpettina Un sandaletto semplice Queste qua sono quelle che io mi porterò in vacanza Perché sono estremamente comode Non hanno il tacco tanto alto Però sono anche elegantine Quindi con un vestitino Piuttosto che Secondo me sono molto molto eleganti Hanno il laccetto alla caviglia E queste sono in mini Cioè in micro vellutino E qui il tacco è così largo Non tanto alto Sono veramente comode Io le utilizzo anche per andare al lavoro E per stare al lavoro Quindi non mi danno tanto fastidio Se non appunto sulle otto ore Allora sì Proprio non ce la posso fare Però sulle quattro ore Devo dirvi la verità Che riesco quantomeno a tenerle Quindi ottima scarpetta Altra scarpettina che ho preso Questa qua Tutti i 37 Ho preso un sandalino Ho preso questo sandalino qua Che è veramente estremamente comodo Io lo avevo di un altro colore Questo qua E devo dirvi la verità Che è veramente fighissimo Guardate che carino Eccolo qua Tutto dorato È comodissimo Morbidissimo Anche questo l'ho utilizzato per lavorare L'altro modello che ho E devo dirvi la verità Non ha mai dato noia Anzi sono comode Morbide E quindi super carina È tutta dorata Con tutti questi Svaroschini Sopra Carinissima Io le chiamo le scarpette da battaglia Anzi Ve le faccio vedere Già tutte subito le scarpe Così ci togliamo il dente Allora Altra scarpetta Anche questa qua Devo dirvi la verità Non so proprio se renderla o meno Perché l'ho provata al piede E Non lo so Non sono molto molto convinta È veramente carinissima E ho preso questa qui Aspettate Che ve la chiudo Questa scarpettina qui Da mettere anche con gli abitini Proprio Non lo so Mi piaceva Ho deciso di prenderla Bianca Con questa trama qui sul davanti Quindi questa griglia Molto carina Anche questa è un 37 C'erano altri colori Ma ho deciso di prenderla bianca Perché Trovo che Non lo so Con la bronzatura è tutto Un standalettino bianco Così non ce l'avevo E quindi ho deciso di prenderlo Ne ho uno simile Con il tacco alto Però appunto Volevo qualcosa di Molto semplice Ma Basso Raso Terra Quindi ho deciso di prendere questa qua Ora Devo capire un attimo Se effettivamente renderla o meno Devo vedere sotto a quale Abito completo Metterla Vediamo come sta E poi Deciderò se renderla o meno Altra scarpettina E voi direte Ma cosa sei? Un millepiedi? Sì lo sono Ok Ho preso un altro Un altro infradito Ok Anche questa è una ciabattina Carinissima Secondo me E fatta anche molto bene Tra l'altro Trovo che sia Eccola qua Fatta così Mi piaceva questa parte Sul davanti Perché è un po' più appuntita Rispetto alle altre Vedete? Ed è fatta Tutta nera in raso Con questi Svaroschini Neri E dorati Quindi abbiamo tutta Questa parte Di brillantini Dorati Mi piacciono tantissimo Queste anche Sono molto Elegantine Quindi da utilizzare Non lo so La sera Durante le passeggiate Cene fuori Eccetera eccetera Se non volete Mettervi tacchi Avete un sandalo gioiello Comunque che Assolutamente Fighissimo Poi Scatolina In questa scatolina Ho preso una cosa Veramente molto interessante Perché Ho deciso di prendere Un contenitore Porta occhiali Sia per me Che per Orazio Cioè è un contenitore Dove possiamo inserire Tutti i nostri occhiali Da sole Da vista Eccetera eccetera Quelli da mare Perché quello che Io utilizzo Che è l'occhiale da sole In realtà Che ha le lenti Quindi graduate Non lo utilizzo al mare Ma mi porto un occhiale A parte Quindi tutto Tutto così Comunque anche Orazio Facciamo così E questo è Il contenitore Dei nostri occhiali Quindi questo qua Finirà assolutamente In baliggia Un po' ingombrante Devo dire la verità È un po' tanto grandino Però comunque mi piaceva Sono per sei occhiali E praticamente Fa questo lavoro qui Quindi avete anche Il gancino Da poterlo appendere E andare a inserire Tutti i vostri occhiali Questo lo potete utilizzare Ovviamente anche a casa Proprio per andare A conservare I vostri I vostri occhiali L'ho voluto prendere Non il classico nero Ma questo marroncino Cuoio Che mi piace tanto Ho preso Una borsettina Di Hello Kitty Mi piaceva L'ho presa Questa qua Non so se è il modello Un po' più grande Forse Non mi ricordo Ho preso Questa qui Non da uscire In realtà Mi piaceva Il fatto che avesse La cerniera Ma da utilizzare Proprio come borsetta Porta Non lo so Le cose che mi devo portare Al lavoro Ecco Le metto qua dentro Quindi ha la cerniera È molto carina La potete mettere Sotto il braccio Ok Abbiamo Hello Kitty Disegnata Abbiamo la cerniera E addirittura Una Taschina Dentro Della Borsetta Veramente carina Fatta di queste qua In tela In tessuto Così Molto molto carina Il retro non ha nulla E il davanti Abbiamo la scritta Hello Kitty Hello Kitty Molto molto carina Poi Ho preso Questo set Da due pochettine Da mettere Nella borsa mare Sono due pochette Che in realtà Appunto Sono arrivate Troppo tardi Quindi una Non l'ho potuta Dare a mia sorella E queste qui Sono due pochette Esattamente identiche E sono Le pochette È la pochettina Con la scritta Beach Survival Kit Sono di queste Trasparenti Mi piaceva tantissimo Anche il disegno Mi pude La fronte Ok Mi piaceva tantissimo Anche il disegno Sono di quelle Trasparenti Come piacciono a me Quindi Vedete il contenuto Potete vedere Il contenuto All'interno E questa qua Finirà dritta Dritta Nella mia Borsa mare Guardate che carino Il disegno Con il fenicottero Bellissimo Mi piace Un sacco Quindi Ho deciso di prendere questa Poi Ho preso Un cerchiettino Fatto così Con Le pietrine Questo è In jeans Mi piaceva un sacco Eccolo qua Fatto in questo modo Tutto jeansato Con pietrine E perline Adesso ve lo proviamo Carinissimo Trovo che sia Veramente bellissimo Mi piace un sacco Spero di prendere Ancora più colore Comunque Mi piace molto A me I cerchietti Piacciono tantissimo Li utilizzo un sacco Fasce Cerchietti Eccetera Eccetera E quindi Assolutamente Da avere Appena l'ho visto Ho detto Mio Poi Ho preso Un'altra Poscettina Questa qui Per andare ad inserire All'interno La crema solare Le creme solare Che porterò al mare Con la scritta SPF Quindi è la pochetta Posta appunto Per Per i solari E all'interno Andrò a mettere Appunto La crema solare Che mi andrò A portare Quel giorno Con magari Appunto Lo spruzzino Dell'acqua Piuttosto che Lo stick Per i baffetti E il burro di cacao Con la protezione Quindi metterò tutto All'interno Di questa pochettina Arriverà sicuramente Arriveranno I soliti video Che vi faccio Ogni anno Con Cosa c'è Nella mia borsa mare Cosa c'è Nella mia borsa da viaggio Cosa c'è Nel mio beauty Quindi Aspettatevi anche Quelli che arriveranno Quindi Poscettina Poi Ho preso Un'altra pochette Un'altra pochette Perché questa qua Sarà la pochette Che io porterò Dove all'interno Inserirò il telefono Il portafoglio Eccetera eccetera E' abbinata ovviamente Alla mia borsa in silicone Che vi ho mostrato Negli shorts Che ho preso per il mare Ho preso questa borsettina qua In paglia E' fucsia Fatta così Con questi pompon Bellissimi Con la scritta Beach Questa qua appunto Da portare Così E se ci dovessimo Fermare dopo il mare A prendere un aperitivo Piuttosto che Almeno Una borsettina Che è Quanto meno Abbastanza carina Anche per Tra virgolette Uscire Sempre da spiaggia Però Non per andare in giro Ovviamente Però sempre Se siamo sulla spiaggia Se vogliamo prendere un aperitivo E siamo Lì Sinceramente Anche da portare al bar E' carina Avere La pochettina Fatta in questo modo Quindi Questa sarà Il mio contenitore Per andare ad inserire Cellulare E tutte Tutte le mie cose Bellissima Mi piace tantissimo Poi Altro sacchettino Ho preso Appunto Parlando di limoni Sempre Ho preso Una Fascettina Una bandana Un fularino Lo potete mettere come volete Addirittura anche Al collo Se volete Io l'ho preso Da mettere In testa In testa Ovviamente Questa è la fantasia Con i limoni Ovviamente Voi potete andare a metterlo Proprio come Come bandana Vabbè Così Ok Come bandana Oppure Io la utilizzerò Proprio come Una fascia Quindi Direttamente Su O così O al contrario Vabbè Ci siamo capiti Comunque Da fermare Con le mollettine Perché è molto scivolosa Quindi Bisogna fare All'occhio Poi Parlando Ancora di fascette Ho preso Anche questa qui Con le ciliegine Carinissima Anche questa Che Utilizzerò Ovviamente Ok Eccola qui Bellissima Questa È stupenda Questa Andate a fermare sotto E ovviamente Avete La vostra fascettina Con le ciliegine È bellissima Veramente carinissima Anche questa Ci sono tantissimi Accessori Per il mare Accessori Per quanto riguarda I capelli Che sono veramente Fusissimi Sempre parlando Di capelli Direi Ho preso Dei fiorellini Da mettere In testa Appunto Quando sono al mare Allora Nello specifico Ho preso Questo qua Che è un po' rovinatino Però Va bene Questo fiore qua Bellissimo Con la mollettina Con la mollettina sotto Che vuoi ovviamente Assolutamente mettere Tipo così Ok Ho preso Sia questo In versione Un pochino più grande Sia questi qua In versione Un pochino più piccolina In giallo Qua ne davano due Nella confezione Fatto sempre Allo stesso modo E questo appunto Anche Vedete In giallo Quindi da mettere Anche con il cappello Raccolto Con le trecce Non lo so Mi piacevano E quindi Ho deciso Di prenderli Poi Ho preso Un braccialettino Qua Questo braccialettino Qua Mi piaceva tantissimo Perché ha Dell'azzurro E soprattutto Ha tutte le cosine Riferite Del mare Vedete Eccolo qua Con tutte le conchiglie Poi in azzurrino Ed è Con il dorato Ha questa sorta Di chiusura Così L'unica Cosa È che Non so Quanto possa durare Il colore oro O se scolorisca Io questo Non ve lo so dire Spero tanto di no Quindi Questo qua Sarà Uno dei bracciali Che mi porterò Sicuramente In vacanza È veramente Super carino È veramente Fatto molto bene Magari tenendo Solo quello E nient'altro Poi Ho preso Un'altra bandana Ok Questa qui Con questa fantasia Scura Ok Ora Questa qua Credo Aspettate Vediamo come metterla Questa è meno scivolosa Delle altre Non ha fil di ferro All'interno Come quelle che ho io Solitamente Ok E potete Veramente Metterla Come volete Comunque la fantasia Mi piace Tantissimo Ok Magari La legate Anche diversamente Non lo so Mi piace tanto Quindi Questa qua Sarà una di quelle Che porterò Anche questa In vacanza Poi Ho preso Un altro set Di braccialettini Sempre in azzurrino Sempre in azzurrino Perché questo azzurro A me piace un sacco Proprio Per il mare Cioè Mi ricorda Proprio il mare L'estate Allora Abbiamo questo set Di sei bracciali Fatti così Tutti elastici Tutti di perline Super 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 carini Guardate Bellissimi Sono tutti elastici E poi Voi li andate ad inserire Tutti insieme Ok Così Carinissimi Mi piacciono tanto E quindi Anche questi qua Finiranno con me In vacanza Ultime tre cosine Ho preso Allora Uno Che è Un Una di quelle Collanine Per gli occhiali Quindi Una catenella Per gli occhiali Dorata Eccola qua Quindi qua abbiamo Tutta la nostra catenella Abbiamo i gancini Da agganciare Ovviamente Alle Bacchette E abbiamo Qui I nostri Guardate I nostri Amici del mare Quindi abbiamo La stellina Abbiamo la Conchiglietta Eccole qua Sul bianco E quindi Questa Io quando Le vado a mettere Le catenelle Le vado ad applicare Aspettate Vabbè Sono fatte In questo modo Quindi andranno A stare Legate qui Oppure addirittura Così Ok quindi Vabbè Catenella Mi piace un sacco L'ho voluta prendere Ne ho tantissime Di catenelle Mi piace cambiarle Io ho preso Una cover Per il mio telefono Per il mio Galaxy S21 FE Che è Questa cover Qui Che è divisa In due Praticamente Sembrano un po' Quelle dell'iPhone Sono molto simili Praticamente Voi dovete andare Prima di inserire Questa scocca Che rimarrà All'interno Fatta così E poi L'andate ad inserire All'interno Di questa qui Che ha il vetrino Anche esterno È molto molto Compatta Quindi la reacchiude Molto molto bene E quindi Mi piaceva tantissimo Ho deciso di prenderla E come ultimo prodotto Ho voluto prendere Un paio di orecchini Super carini Trovo carinissimi Un paio di orecchini Secondo me Estivissimi Super colorati Guardate la bellezza Di questi orecchini In tessuto Qui abbiamo Tutte le nostre Pietrine colorate Sono bellissimi Con un raccolto Trovo che Con un raccolto E avere Praticamente L'orecchino In bella vista Poi comunque Abbronzate Tutto Secondo me Sono super super carini Quindi ho deciso Di prendere Anche questi Quindi niente ragazzi Questo è tutto Quello che ho preso Da Sheen Insomma Spero che il video Vi sia piaciuto E vi abbia tenuto compagnia Direi che il video Può terminare qui Mi raccomando Vi ricordo Di andare in infobox A controllare Ovviamente Perché vi lascio I link Di riferimento Ai prodotti Che vi ho appena mostrato Il codice sconto E anche Codice sconto E link Relativi al Tablet Che vi ho mostrato All'inizio del video Noi ragazzi Ci vediamo In un prossimo video Continuate a seguirmi Mi raccomando Vi mando Tanti super mega bacioni E noi ovviamente Ci vediamo alla prossima Ciao